Lo sapevi che circa la metà dei 500 milioni di cittadini europei vive in zone rurali che costituiscono oltre il 77% del territorio dell'UE e che l'agricoltura e l'industria agroalimentare assicurano insieme circa 46 milioni di posti di lavoro? Le comunità e le regioni rurali dell'Europa sono un elemento prezioso del nostro patrimonio e sono fondamentali per la nostra economia. Attraverso la politica agricola comune riformata o PAC, l'UE aiuta gli agricoltori a mantenere vive le campagne e a conservare la diversità dell'agricoltura europea. Lo fa fornendo prodotti alimentari regionali, stimolando l'occupazione, l'imprenditoria e sostenendo l'attività rurale con i finanziamenti. Investe in ricerca e innovazione per consentire agli agricoltori di modernizzarsi e diventare più efficienti e garantisce ulteriore sostegno per aiutare i giovani a intraprendere un mestiere nel settore agricolo, una scelta occupazionale che offre molte opportunità. Queste iniziative contribuiscono a rendere l'agricoltura europea più competitiva e sostenibile. L'agricoltura non significa soltanto prodotti alimentari, ma anche i nostri paesaggi agricoli e le loro preziose risorse naturali. Senza le aziende agricole e gli agricoltori sarebbe difficile mantenere vive le comunità rurali. La nuova PAC sostiene gli agricoltori per proteggere il paesaggio agricolo dell'Europa e le sue comunità oggi, domani e per le generazioni future. La politica agricola comune dell'Europa. Abbiamo a cuore le nostre radici.